Dunque, dobbiamo mettere mano rapidamente a tutto il pacchetto normativo che riguarda in qualche modo la protezione civile. Noi in Italia siamo bravissime a risolvere i problemi nell'immediato, nell'immediatezza delle tragedie che dovremmo cercare di ridurre come il numero di eventi, ma ovviamente la nostra capacità di lavorare con poche risorse e con tanta buona volontà ci consente di superare la fase emergenziale. Quando poi si entra nella fase programmatoria ci perdiamo in un pacchetto di leggi assolutamente disarmante. Quindi la semplificazione è il verbo che dobbiamo declinare con più frequenza e con l'intelligenza di chi ha già subito eventi climatici estremi, terremoti, eccetera. L'altro punto molto importante sul quale dobbiamo dibattere rapidamente è quello del nuovo assetto del sistema provincia e revaste regioni-stato. Perché c'è un po' di confusione, ci sono deleghe trasversali non definite, ci sono soprattutto lavori molto difficoltosi da parte del residuo delle province in pendenza di una riforma, riforma del Rio, che non è giunta a termine, ma non sappiamo nemmeno quale ne sarà il punto di caduta. Quindi dobbiamo, come Anci, proporre qualcosa che dal punto di vista dei comuni sia accettabile.